Un segno poi tra parentesi in questo momento anche al centro dell'attenzione e soprattutto al centro di una geometria astrale assolutamente fantastica. Il Sole nel nostro segno, Mercurio, Urano, ma soprattutto Saturno e Marte in una posizione del cielo ideale per quanto vi riguarda e questa luna bellissima nel segno dell'acquario producono una giornata assolutamente favorevole e una giornata che però dovete dedicare ad attività spensierate. Quindi mettete per un attimo da parte il lavoro. Lo riprenderete poi a partire dalla prossima settimana perché sarà una settimana importante, ricca di opportunità. Questo è un giorno invece da vivere in compagnia delle persone che amate dei vostri amici in maniera particolare perché i contatti che ci saranno in questa giornata, in questa domenica possono essere divertenti e possono portare anche a rapporti duraturi. Quindi i nuovi incontri che farete anche in questo giorno potranno rivelarsi assolutamente importanti. Andiamo al segno del toro. Voi invece dovreste trascorrere una domenica di assoluta tranquillità. Voi attribuire la domenica di assolut Feng Shきます.